Ancora un ricovero per il virus dengue all'ospedale San Donato di Arezzo. Si tratta di una donna residente nel Fiorentino, rientrata da Cuba. Prima si era recata all'ospedale della Gruccia, poi è stata trasferita in malattie infettive al San Donato. Le sue condizioni cliniche, fa sapere l'azienda sanitaria, sono buone e in rapido miglioramento. A tutela della salute e dell'igiene pubblica, al fine di prevenire malattie infettive trasmissibili attraverso la puntura degli insetti, in particolar modo della zanzara tigre, è stato disposto con una nuova ordinanza contengibile ed urgente, firmata dal sindaco Alessandro Ghinelli, un nuovo intervento di disinfestazione nella zona del San Donato. Lo stesso verrà fatto anche alla Gruccia. Su Arezzo, dunque l'area da disinfestare, come da indicazioni regionali, deve avere un raggio di 200 metri nelle zone esterne all'ospedale. L'intervento sarà effettuato nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 agosto. Si tratta del secondo caso registrato in provincia di Arezzo in meno di un mese. Il primo si era infatti verificato lo scorso 10 agosto, quando un bambino, rientrato anche lui da Cuba con la famiglia, era stato ricoverato con i sintomi del virus. Anche in quei giorni scatta subito il protocollo di prevenzione.